che va sotto eh magari in mezzo qua magari in mezzo qua il vero problema è dove poi mi continuano a inseguire quei cosi di maledetti potrebbe essere sotto ahia mi ha preso potrebbero essere sotto però perché comunque ci sono sti cosi qua che comunque ti bloccano la via non sembra che ti diano fastidio quindi può darsi che magari qualcosa ci sia ma dove ho trovato un dentale ho trovato un covo la vedova nera ho trovato raga aiuto ma scusa ma dove sei? la vedova nera la vedova nera vedova nera aiuto ma dove sei? sono bloccato sono qua e beh mi vedi dove sono? sono nella mappa è dietro Rita e ha le tue spalle esatto esatto ho fatto il giro perché c'era il muretto l'ho detto faccio il giro del muretto vedi faccio il giro del muretto ma si dai proviamo intanto cosa può succedere mai di male di brutto prestar ci lascia le penne la vedova nera è dentro lì dentro là se stiamo qua sopra arriva? non lo so però non riesco a prenderle io da qua se vuoi faccio le gola no che semmai lo faccio io che sono dentro vai vai arrabbiata? sti cavoli ma quanta energia c'ha spanic stai fermo lì come al solito senza toccarla arrivano anche i ragnetti arrivano i ragnetti qualcuno deve far fuoco sui ragnetti panic da solo non ce la fa vai giù te a Bresta no? fai fuori i ragnetti fai fuori i ragnetti sti cavoli mi fate un attimo scurare che no il veleno mi ha ammazzato chi mi riesce ad alzare? io 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 ti alzo io se la vale continua a sparare senza che mi prenda me eccomi cucane ma che animale che è eccomi 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 arrivo Braistar dammi 30 secondi vieni qua vieni qua qua ci voleva lo scudo fai fuori quelli piccoli e continua ad avvelenarmi questa qua cucciolo di vedovaniera ma Anna cos'è che c'ha oh ma qua ci vuole non so che cosa mi è venuta in mente un'idea dovevo mettermi la mutazione del veleno e la mutazione la mutanda del veleno ti devi mettere no ho finito le frecce aspetta ma per chi vieni da me? no presa si è arrabbiata tu io ok non riesce non riesce a salire non riesce? no invece si aiuto non riesce a salire le ultime parole famose tranquillo non riesce a salire a volte mi ammazza io tre li ho fatti fuori fai fuori fate fuori piccoli voi intanto che sei che è qua aspetta che vedo qualcuno per terra qua si io tira tira su tira su si è il veleno che fa malissimo questa cos'è? ah frammento ho finito le frecce ormai rago ho finito le frecce datemi un secondo che mi cambio la mutazione datemi tira su le frecce a me mi ha buttato giù oggi mi sta arrivando da voi qualcuno riesce a salire alzatmi io se non muoio eh no no il veleno mi uccide mi uccide il veleno mi ha ucciso il veleno sono qua sono qua sono qua mi ha ucciso il veleno purtroppo caccia Eva ok dove sei? ok grazie Vale solo che adesso io c'ho paura perché ha smesso di attaccarci sai cosa vuol dire? che si rigirà che si rigirà esatto ok dobbiamo trovare un punto dove lei non arriva provate a fare una cosa cambiamo un attimo tattica voi attiratela io entro nella tana e invece no proviamo a salire sulle foglie questa sale anche qua sale cos'è che è? mutazione? bracconiere sì anch'io ho preso la stessa forse può essere comoda quella mutazione che cos'è? non lo so però sapersi occhio che sale qualcuno che è alta aiuto io aiuto io se riesco a saltare sopra ma ragno si è messo proprio dove devo passare io e non riesco a saltare la maledetta eccolo che ce l'ho fatto ce l'ho fatto ce l'ho fatto no ce l'ho qua ce l'ho qua aiuto che cavolo però ma 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 questo cavolo di ragno dai occhio braistad ce l'ha contà braistad resisti vado ad alzare allora sì sì l'ultima parola è famosa di braistad arriva anche cipalippa a salvarci eh cipalippa cipalippa è l'uomo più inutile del coso vai bloccato lì è incastrato la ma da quasi morto arrivo sta tornando sta tornando sta tornando scappiamo subito gli evvivi no venite eri qua e io sono andato all'altra parte l'altra parte opposta però io cipalippa e salite tutti sulle foglie io sono finito nella tana ok occhio che ci sono i ragnetti quelli piccoli mi viene ad alzare spani ma ma come se c'è qualcosa da rompere dentro qua col veleno mi sono allontanato apposta stavo c'è qualcosa da rompere qui mi sono anche curato ma niente la possiamo ammazzare se ci mettiamo qua sopra dove vale datemi un secondo arrivo comunque c'è qualcosa per un martello di livello 3 mega lente l'ha te l'ho preso e proprio c'è una freccia freccia secondo me ma dov'è che è la cavolo è qui eh fugamon fugamon si si vai non ci fossero domani dove siete sopra sali sopra come fai salire qua anche dalle foglie salta braistar salta il tuo il tuo sport saltare secondo me arriva anche quassù ma no da qua impossibile andate tutti dove ammon ci penso io a tirarlo ah ci pensi te va bene l'hai presa si si ma è bloccata ah no non è più guarda legolas ciulo presa ma è bloccata lì come prima ma non si può fare le frecce nell'inventario in qualche modo eh se hai ci abbiamo una mazza come ci sei arrivato da sto chi no no niente sono saltato sul fianco eh si è messa dietro il masso vado a prenderle oh vale che rischi lì bisognerebbe salire sul muretto ok arriva 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 vedi sul muretto se saltiamo sul muretto è meglio salta su vale salta su vale sali ancora che non dovrebbe riuscire a salire sì ma non ho frecce sono un po' inutile però gli faccio danno eh peccato che ho finito le bombe ah vale sai cosa puoi fare forse raccogliarle no o magari anche farle cioè se si riesce in qualche modo bene lì si trova vai inizia a picchiarlo vai 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 cos'è che è uscito la vedova nera lo vedi sotto vedova nera io vedo non so se la rigenerazione tipo forse se non l'attacchiamo per quei secondi lì si rigenera la vita e ciao io ho finito le frecce e adesso fai i toro no bisogna che qualcuno sposti la bestia deve spostarsi da lì la bestia ok così bravo tu mentre sei lì un po' la volta si scende si recupera le frecce ti farate lenti a voi ah sei giù che è successo mi aveva avvelenato ok vieni 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 ah ma guarda legolas non ne ho azzeccata una guarda non ne hai azzeccata una è vero io ne hai proprio azzeccata una non ne ho azzeccata una ah dai ma prendi la braistar prendi sta vedovaniera guarda legolas ok spani torna su si occhio vale che arriva allora adesso se noi riusciamo a farla avvicinare io raccolgo le altre frecce che ti ha sparato là si io le ho pinito allora vai tu braistar raccoglie le frecce io ne ho ancora un po' facciamola avvicinare un attimo scusa dove sono le frecce dietro di lei sono per terra eh qualcuno ha funghi qualcosa da mangiare eh non c'ho niente non c'ho niente zero zero proprio zero sai cosa di zero zero c'ho il cibo marcio se vuoi che cosa che c'ho braistar tienila lì bravo 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 io mi sto raccogliendo le mie perchè non riesco a raccogliere le altre vieni qua beh puoi raccogliere con la E eh si oh però con la mazza qua gli faccio un male va che se ci mettiamo qua a picchiare la facciamo prima raga si spostala vai 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 tirate su tirate su tirate su tirate su vieni vieni qua vieni 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 non si dà mai le spalle al nemico maledetta mai vieni qua vieni qua vieni qua niente ti alziamo subito e no ci muoio anche per il mangiare no ma preso alla fine mancava mezzo secondo oh ok oh vai come on max we need si oh mamma mia vai amo tutto tuo e poi tira tira su cipalippa così lo mangio ragazzi non avete un fungo o una qualsiasi cosa non ho niente raccoglio ce li ho io to dammi 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 veloce monumento c'è la tomba di cipalippa mi ha dato l'inventario me l'ha dato si c'è la tomba di cipalippa non lo so se l'inventario me l'ha dato spero che sia nella tomba di cipalippa comunque spanic dimmi guarda che qua dentro la tana di sta sta tizia qua c'è un qualcosa che va rotto con il martello di livello 3 qua dove sono io ecco lì ah stanno le unghie ah sono le unghie oh ottimo vai tira su le unghie io c'ho l'inventario pieno le unghie del piede non ci fanno le unghie del piede qua dai bresta ti sei tagliato le unghie hai messo sotto qua ma dai spacchiamo questi praticamente si ci dovrebbero dare cose ecco non ci danno hai visto cosa ci danno ragna ragna go go che ci muoio adesso è anch'io come c'è morta la vale ci muoio anch'io adesso la vale chiamata ah 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 fuck vale vale ti tiro su io vabbè ho già capito e non muoio prima dai come c'è morta la vale Facca le altre Sì ma siete tutti senza Senza energia Usate Eh le bende le usate Io ho finito tutto Eh no che cavolo Ti danno dei pezzi di animale Ma il problema è Cacchio mi ha dato il veleno Altro che pezzi di animali E qua Vai tira su Ma cosa ti danno le vedo venire qua piccole Una mazza Fibra Eh la ragnatella Vedi che c'è qua roba Tirate su su pezzi di animali Che si ammazzano loro Ah no C'è stato strumento al taglio Adesso arriva un'altra vedova Oh cos'è La sacca di zanzara Vedi invece ammazzare zanzara Occhio occhio vale Mi sta avvelenando a cucù Ma muori male Devi morire male Arrivo arrivo Oh mutazione di taglialegna Aspetta che tiro sulla vale E tanto oggi devo fare il croce rossino Ma dai vale che figure C'è alcuni di quelli di animali Zeo Sì ancora Ma porca miseria Sì ma anch'io eh Ci sono messo malissimo Adesso andiamo a mangiare C'è una carne d'affide cruda Per chi la vuole Eh cipalippa poverino Buono cipalippa Cipalippa Oh parte di cimice verde C'è avvento Eh vedi dai spacchiamole tutte Cosa c'è che ho tirato a cadere per terra la vale È stanca È stanca È stanca La vale oggi è stanca Aia Ma il cavolo di spani Che mi ha tirato un'ammazzata in faccia a me Ma dai spani Ma io lo so Ci sono alleati tutti contro di me oggi Ah è questo Questo Un altro pezzo di fornute Lascia stare la vale Maledetta Mai veleni a gogo Credo vaniera del cavolo Occhio dietro Chi è che l'ha aperto l'altro Spani No io ero dietro Dietro di te Allora è stato Braystar È stato Braystar Io l'ho aperto Ma dai ma scusa Guarda hai fatto un casino Braystar Aprete l'altro dai Apre così Eh ma benvenuto a me La vale è caduta per La ventisesima volta che cade la vale Non aver paura Dai Dai allora Prima di chiudere questa Queste due puntate che abbiamo fatto Divise in più parti Raccogliamo le frecce E Spanik tu le unghie Devi scoprirle Eh Sì se non sbagli Sì sì Ok allora andiamo nel laboratorio più vicino Scopriamo le cose D'altro il laboratorio più vicino è qua eh Se nemmeno qua Sembrerebbe Questa parte qua Sembra Uh cavolo Maledetto Vai Spanik Questo è nostro Lo sto facendo però È bloccato lì Ah però questo non è quello normale eh No questo è un mini boss Eh scarabeo rinoceronte no È nero c'è scritto Ah il mini boss Sì ma è un mini boss Quelli che hanno la vita aranciata e viola Sono mini boss Ma le puntate del mini boss qua sono Guardamon Col coltellino quello per Sì il coltellino svizzero di Megailer Bravo Sì guarda Ma che bestia che sono Eh Aiuto aiuto a non prendertela con me Non ho fatto niente di male io Cosa fa? Ah è bloccato Sta cercando di caricare ma è bloccato E qua E qua Vieni che sono qui Gli da il veleno questo qua Guarda Vai vieni qua Vieni 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 che sono qua Mamma mia Se ammazzi con la mazza qua Sti cavoli che potta Oh E ora te le tiro io E qua Poi ce la facciamo anche noi Sì con la Guarda che la mazza qua Fa un sacco di danno Comunque Cioè Veramente un colpo Gli ti rivi un sacco E stunna Vai è morto Ok Vai raccogliete Ah che bello Trenta di scienza pura Unghia del piede Bravo Spanica Adesso con lo spanica finito Copriamo anche la nostra cosa Che è questa bellissima Ecco la polvere da sparo Dai Merce rara Che ci dà il razzo di segnalazioni e proiettili scoppiosi Questo sicuramente fa danni contro i nemici Sicuro E poi ci sono anche le zanne di vedova nera Attenzione Che ci dà il cappuccio di vedova nera I leggings di vedova nera E poi tutti i trofei E eccetera eccetera Oh spanica Dimmi Ah comunque Ci ha dato anche la vedova nera Dico una cosa Non possiamo più salire di livello eh Il livello 16 è il massimo Perché sto guardando adesso Eh sì Il livello 16 è il massimo Quindi l'armatura di Vespa È l'ultima Ce ne sono più altre Ok Armatura di Vespa Sì È l'ultima di quelle da Come si dice Da sbloccare quei livelli Poi non so se Probabilmente ci sarà qualche armatura Di qualche altro animale magari Che non abbiamo ancora incontrato Ma sicuramente di Vespa no È l'ultima proprio dei livelli Va bene Allora io direi di andare Verso casa Perché prima di chiudere la puntata Vorrei seppellire Cipalipa Cipalipa che ci ha dato Una grossa mano Devo dire Sempre stato utile Qua c'è un dente Mi segnala un dente a me Qua dove sono io Cos'è sto robo? Cos'è sto robo? Ragazzi Sono finito in un posto brutto Ma io non ti vedo Sono dentro Sono qui Aiuto Non so come uscire Ci sono due scarabèi Ma dove? Io non ti vedo Sono qua Sono qua Panica aiuto A sapere dove sei Cavolo Non posso neanche metterli inventati Via questa roba qua Via Ok Se ne sono un attimo andato Sono dentro A un buco Sono entrato dentro un buco C'è un coso rosso Con fine E io sono finito dentro il buco Aspetta che arriviamo Aiuto Aiuto raga Ma dove cavolo sei E qua Sono entrato nel buco C'è un buco lì Dove sono io Ok Eccoci Bravo Spanik Occhio che sono due Voglio farne fuori prima uno E io ci muoio prima Ecco E se vuoi Puoi salire Da dove sono io Ah c'è una salita? Sì sì Ah dentro un buco qua Sei caduto Eh sono caduto Bresta Devo scendere Ma si scendi Ci sono due scarabè Ce li facciamo tutte due Se riusciamo Io devo tornare un attimo In basso Perché se no Torna torna in basso Allora Uno para E uno colpisce Ok Sì È un problema Che dove sei te A Bresta Non puoi né parare Né colpire Aspetta un attimo Stai calmo Allora E guarda E guarda Ok Sto prendendo colpi a destra E a sinistra A destra E a sinistra A destra E a sinistra Devi parare Devi parare Devi parare E poi colpisco io Ma sono due Braistar Non è uno Cioè tu pari su uno Il problema che mi attacca l'altro E tu pari Guarda qui Questo continua a staccarmi Non posso Non riesco a Ma se mi allontano un attimo qua Così Questo qua viene qua Giusto i cavoli Manciato il sasso Il maledetto Vieni qua Vieni Vieni qui Qui devi venire Bravo Qua Giusto Sto arrivando Se riesci a recuperare Del cibo Perché sono a 70 secondi Eh no Ho un modello per il cibo Qualcuno mi deve tirare su Se riesci a scendere A tirarlo su Perché mo io ne ho due E mo il problema Arrivo Arrivo Eh si ce la fai Ce la fai Vale Ce la fai Se non ci tira il masso Ce la fai Sta arrivando l'altro Sta arrivando Eccola Ha preso la Vale Aspetta che lo allontano Sti cavoli Che botta Aspetta che lo allontano Qua dove sono io Arrivo Vale Ma comunque Mi arrivo per il cibo Quindi non ti preoccupare Eh ma arrivo Arrivo Vai vai Comunque la stazione da campo È qua vicino Quindi fate stazione da campo E' solo Il problema è che qua Eccolo Eccolo Arrivo Guardami le spalle Vale L'altro ce l'ho io Vai ok E adesso Adesso arrivo io da Brayster E la Vale aiuta Spagna Vai colpisci Eh colpisci Sto colpendo Lo sto colpendo Nel vero età Quando ti attacca Tu para che colpisco io Ok Sì sì Vai tranquillo Non mi attacca una mazza No no vai tranquillo Adesso mi attacca Tu adesso Ma hai acqua Sti cavolo che botta Presta non gli stai facendo niente Gli fai il sole Ahia chi è che mi ha preso È lui che ti ha preso Perché devi parare Eh ho parato Ma era girato dietro Il maledetto Ah dai Qualcuno riesce a tirarlo su Eh non credo Eh la Vale è morta anche lei Io anche sono giù Anche tu sei giù Eh sì Presta devi resistere Resisti 30 secondi Resisti Presta Resisti Presta muoviti e resisti Arrivo Eh uno è quasi morto Eh fai fuori prima Quello che è quasi morto Fatto Morto Via col prossimo Raccoglietelo Vabbè raccolgo io Guarda la mazza Va con la mazza Bene Vedi con la mazza Ah io l'ho preso Con la mazza Ma i danni Guarda lì Morto È già morto Basta La mazza Pum 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 Non ho fatto Vai Cogliamo il dentino Oh là Guarda che bello Sono fatti fuori E te Braistar che li volevi E mo ce li hai E mo cominciamo Da lì Da qua Da qua Da qua Sali sopra qui E poi basta Dei salire lì dove c'è Eh grazie Vai vai avanti tu Va che mi viene da ridere Eh fai così Poi pian pianino Vedi ti rimuovere Pian pianino Il trucco è pian pianino Poi salti qui Salti Dai Braistar Vai Poi salti ancora Dai Braistar Dai Braistar Vai tranquillo Braistar Ecco adesso salta sopra qua Allora Braistar sta andando a scoprire Delle cose Delle cose Non si sa che cosa Qualcosa Qualche cosa Braistar Vedrete Però io qua ho La lapide Che metterò qua Qua faremo un piccolo cimitero Non so come si vede Forse così Penso Eccola qua Eccolo qua Lapide in memoria di Cippalippa Eccolo qua Qua c'è una lapide in memoria Del povero Cippalippa Grande 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 Cippalippa Che purtroppo è morto Cercando di Di salvarci Non è vero eh Non è vero Non ci avrebbe mai salvato Oh Braistar Cimice verde Vabbè Praticamente niente Braistar Niente di Niente di buono Solo punti Vabbè Buone punti Non è male Mettiamo via tutte ste Cosucce qua Le unghie di piedi Dove le metto? Metti nel Lì nel Coso e altre Lì come si chiamava Qua nel Qua Ruggine e altro Va Ma è Ruggine e altro Il suo posto Dopo puoi usare Due denti I denti d'oro Che hai Eh ma due Non me ne faccio niente Io Tutte cose da tre o da quattro Adesso Per ora I denti d'oro? Io ho trovato un piccolo elmo nero Ma di chi è? È del È del Ah è del Cipalippa Del Cipalippa 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 Hai ragione Bresti Povero Cipalippa È morto È morto Cipalippa Povero Cipalippa Lui sì che ne sapeva Va bene Allora amici Io direi che però Per questa puntata è tutto Andremo avanti Ovviamente da qua Mi raccomando Supportate questa serie Con un bel mi piace Commento e una condivisione Iscrivetevi al canale Se siete già iscritti E ovviamente Attivate la campanella Per non perderne anche Una notifica Di questi video Supportate il canale Già soppi Per cui da amor Già da Bresta Ma non solo Perché abbiamo anche Panic E infine Vale È tutto Ci vediamo al prossimo Fottuto video Io ho anche cucinato Cipalippa Che è morto Lo dico Non buttiamo via niente Ci vediamo al prossimo Fottuto video Ciao a tutti Ciao 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 a tutti 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 Ciao a tutti